Ho scoperto un film meraviglioso su Prime Video Questa cosa capita pochissime volte così ma è successo Non sapevo nulla di questo film Questo film non è uscito nei cinema in Italia, non è uscito in un video E attenzione non è neanche un prodotto originale Prime È semplicemente un film che è uscito in America e stop e da noi è arrivato in streaming Questo film è un horror pazzesco, barbarian Semplicemente tutto quello che potrei dirvi di questo film potrebbe essere uno spoiler Vi posso solo dire che la trama è questa Una ragazza trova una casa su Airbnb, ci va e scopre che c'è un altro inquilino Che ha preso la casa su Airbnb E basta E poi la stupefacenza Se non vi piace questo film vuol dire che avete dei problemi Mi dispiace soltanto che se vedete questo film dopo questo video Vuol dire che avete già un hype positivo Quindi non siete vergine come lo sono stato io per fortuna Quando ho visto questo film che non sapevo nulla Quindi a volte può succedere, a volte sei a casa, non sai cosa vedere E ti imbatti in un capolavoro Per chi ama gli horror, boh, questo film è tutto Il regista che non conoscevo, classe 1981, Zach Grieger È da tenere d'occhio perché se un essere umano fa una cosa del genere Vuol dire che in futuro potrebbe fare ancora di meglio Quindi a volte succede pazzesco rarità E quindi, boh, guardatelo finché scompaiono il limbo delle cose che vengono cancellate dallo streaming Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti